benvenuti nel canale ufficiale di autocentri balduina e in questo video vi parleremo della nuova volkswagen id life ma prima di vedere com'è la nuova volkswagen id life ricordatevi di iscrivervi al nostro canale di attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video l'avevamo visto allo scorso salone di monaco ma il bello è arrivato in queste settimane quando dal quartier generale di volksburg è giunta la conferma che il concept id life verrà presto prodotto in serie il lancio è previsto per il 2025 secondo i beni informati la nuova vettura elettrica volkswagen dovrebbe sfoggiare prezzi di attacco davvero molto interessanti attorno i 20 25 mila euro un modello che volkswagen vede differentemente dalle cugine id non a caso il design si stacca parecchio dalle elettriche già in commercio con la volkswagen id life si viaggia quindi nel segmento delle elettriche compatte perfetto per quello che è l'impiego cittadino e stracolme di tecnologia il tutto con un design vagamente retro che strizza l'occhio alle linee squadrate di un tempo insomma il bello secondo noi sta proprio qui look con riferimenti quasi vintage e una tecnologia di bordo che guarda convinta al futuro per farlo abbiamo una versione rivisitata della piattaforma mib quella che per intenderci all'interno del gruppo volkswagen dà vita ai modelli 100 per cento elettrici posizionato quindi all'anteriore il motore elettrico della id life che avrà una potenza di ben 234 cavalli sarà alimentato da una batteria di dimensioni piuttosto abbondanti per una vettura così compatta da ben 57 kilowattora abbastanza da garantire un'autonomia di almeno 400 chilometri una vettura rispettosa dell'ambiente quindi e che non lo fa solo non inquinando ma che fa la propria parte anche stando semplicemente ferma i colori della carrozzeria ad esempio sono realizzati sfruttando coloranti del tutto naturali così come gli agenti fissanti sono a base organica mancano poi gli elementi in plastica decorativi lasciando tutto al concetto minimal e alla leggerezza costruttiva in attesa di vederla dal vivo se vi è piaciuto il nostro video sulla nuova volkswagen id life beh allora mettete un bel pollice su commentate e seguite le nostre pagine social per farlo trovate tutti i link nella descrizione sotto il video a presto 1 in a million 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 One in a million